Eeeh, ho detto di ragazze, ho detto, ho detto, ho detto, nella live ho detto che cosa non succederà niente, esattamente, sto un po' ricredendo sui fatti, però mi devo solo sui ragazzi, perché, solo per fare i video, allora c'è una youtuber, bravo, che lo stimo tantissimo, voglio diventare veramente per me, qui, ma, ok, tra cose di, andate a vedere, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Eeeh, ho detto, 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 e poi te giornate e stavo a dire ma sarà successo o qualunque sarà? e sarà successo quando usi e voglio andare a dire quando ci sono stati usati perchè mi viene da dire che gli scompremente